Di Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio, storia di un burattino, voce di Lorenzo Pieri. Capitolo quattordicesimo. Pinocchio, per non aver dato retta ai buoni consigli del grillo parlante, si imbatte negli assassini. Davvero, disse fra sé il burattino rimettendosi in viaggio, come siamo disgraziati noi altri poveri ragazzi. Tutti ci sgridano, tutti ci ammoniscono, tutti ci danno consigli. A lasciarli dire, tutti si metterebbero in capo di essere i nostri babbi e i nostri maestri. Tutti. Anche i grilli parlanti. Ecco qui. Perché io non ho voluto dar retta a quell'uggioso, di grillo, chissà quante disgrazie secondo lui mi dovrebbero accadere. Dovrei incontrare anche gli assassini. Meno male che gli assassini io non ci credo, né ci ho creduto mai. Per me gli assassini sono stati inventati apposta dai babbi, per far paura ai ragazzi che vogliono andare fuori la notte. E poi, se anche li trovassi qui, sulla strada, mi darebbero forse soggezione? Neanche per sogno. Anderei loro sul viso gridando, signori assassini, che cosa vogliono da me? Si rammentino che con me non si scherza. Se ne vadano dunque per i fatti loro. E zitti. A questa parlantina fatta sul serio, quei poveri assassini, mi par di vederli, scapperebbero via come il vento. Caso poi fossero tanto ineducati da non voler scappare, allora scapperei io e così la farei finita. Ma Pinocchio non poté finire il suo ragionamento, perché in quel punto gli parve di sentire dietro di sé un leggerissimo fruscio di foglie. Si voltò a guardare e vide nel buio due figuracce nere, tutte imbacuccate in due sacchi da carbone, le quali correvano dietro a lui a salti e in punta di piedi, come se fossero due fantasmi. Eccoli davvero, disse dentro di sé, e non sapendo dove nascondere i quattro zecchini, se li nascose in bocca e precisamente sotto la lingua. Poi si provò a scappare, ma non aveva ancora fatto il primo passo, che sentì agguantarsi per le braccia e intese due voci orribili e cavernose, che gli dissero, o la borsa o la vita. Pinocchio, non potendo rispondere con le parole, a motivo delle monete che aveva in bocca, fece mille salamelecchi e mille pantomime per dare ad intendere a quei due incappati, di cui si vedevano soltanto gli occhi attraverso i buchi dei sacchi, che lui era un povero burattino e che non aveva in tasca nemmeno un centesimo falso. «Via, via, meno ciarre e fuori i denari!» gridavano minacciosamente i due briganti. E il burattino fece col capo e con le mani un segno come dire «non ne ho!» «Metti fuori i denari o sei morto!» disse l'assassino più alto di statura. «Morto!» ripetè l'altro. «E dopo ammazzato te ammazzeremo anche tuo padre!» «Anche tuo padre!» «No, no, no, il mio povero babbo, no!» gridò Pinocchio con accento disperato, ma nel gridare così gli zecchini gli suonarono in bocca. «Ah, furfante, dunque i denari te li sei nascosti sotto la lingua! Sputali subito!» E Pinocchio duro. «Ah, tu fai il sordo! Aspetta un poco, che penseremo noi a farteli sputare!» Difatti uno di loro afferrò il burattino per la punta del naso e quell'altro lo prese per la bazza. E lì cominciarono a tirare screanzatamente uno per in qua e l'altro per in là, tanto da costringerlo a spalancare la bocca. Ma non ci fu verso. La bocca del burattino pareva inchiodata e ribadita. Allora l'assassino più piccolo di statura, cavato fuori un coltellaccio, provò a conficcarglielo a guisa di leva e di scalpello fra le labbra. Ma Pinocchio, lesto come un lampo, gli azzannò la mano coi denti e dopo avergliela con un morso staccata di netto, la sputò. Figuratevi la sua maraviglia quando invece di una mano si accorse di avere sputato in terra uno zampetto di gatto. Incoraggiato da questa prima vittoria, si liberò a forza dalle unghie degli assassini e, saltata la siepe della strada, cominciò a fuggire per la campagna. E gli assassini a correre dietro a lui come due cani dietro una lepre. E quello che aveva perduto uno zampetto correva con una gamba sola, né si è saputo mai come facesse. Dopo una corsa di quindici chilometri, Pinocchio non ne poteva più. Allora, vistosi perso, si arrampicò su per il fusto di un altissimo pino e si pose a sedere in vetta ai rami. Gli assassini tentarono di arrampicarsi anche loro, ma giunti a metà del fusto sdrucciolarono e, ricascando a terra, si spellarono le mani e i piedi. Non per questo si dettero per vinti che, anzi, raccolto un fastello di legna secca a piede del pino, vi appiccicarono il fuoco. In men che non si dice, il pino cominciò a bruciare e a divampare come una candela agitata dal vento. Pinocchio, vedendo che le fiamme salivano sempre più e, non volendo far la fine del piccione arrosto, spiccò un bel salto di vetta all'albero e via a correre da capo attraverso ai campi e ai vigneti. E gli assassini dietro, sempre dietro, senza stancarsi mai. Intanto cominciava a baluginare il giorno e si rincorrevano sempre. Quando ecco che Pinocchio si trovò sbarrato il passo da un fosso largo e profondissimo, tutto pieno di acquaccia sudicia color del caffè e latte. Che fare? Una, due, tre, gridò il burattino, e slanciandosi con una gran rincorsa, saltò dall'altra parte. E gli assassini saltarono anche loro, ma non avendo preso bene la mira patapunfete, cascarono giù nel bel mezzo del fosso. Pinocchio, che sentì il tonfo e gli schizzi dell'acqua, urlò ridendo e seguitando a correre, buon bagno, signori assassini! E già si figurava che fossero belle affogati, quando invece, voltandosi a guardare, si accorse che gli correvano dietro tutti e due, sempre imbacuccati nei loro sacchi e grondanti acqua come due panieri sfondati. Capitolo quindicesimo. Gli assassini inseguono Pinocchio, e dopo averlo raggiunto, lo impiccano a un ramo della quercia grande. Allora il burattino, perdutosi d'animo, fu proprio sul punto di gettarsi in terra e di darsi per vinto, quando nel girare gli occhi all'intorno, vide, fra mezzo al verde cupo degli alberi, biancheggiare in lontananza una casina candida come la neve. Se io avessi tanto fiato da arrivare fino a quella casa, forse sarei salvo, disse dentro di sé. E senza indugiare un minuto, riprese a correre per il bosco a carriera distesa, e gli assassini sempre dietro. E dopo una corsa disperata di quasi due ore, finalmente tutto trafelato, arrivò alla porta di quella casina e bussò. Nessuno rispose. Torno a bussare con maggiore violenza, perché sentiva avvicinarsi il rumore dei passi e il respiro grosso e affannoso dei suoi persecutori. Lo stesso silenzio. Avvedutosi che il bussare non giovava a nulla, cominciò per disperazione a dare calci e zuccate nella porta. Allora si affacciò alla finestra una bella bambina, coi capelli turchini e il viso bianco come un'immagine di cera, gli occhi chiusi e le mani incrociate sul petto, la quale, senza muovere punto le labbra, disse con una vocina che pareva venisse dall'altro mondo. In questa casa non c'è nessuno, sono tutti morti. Aprimi almeno tu, gridò Pinocchio piangendo e raccomandandosi. Sono morta anch'io. Morta? E allora che cosa fai? Costì alla finestra. Aspetto la bara che venga a portarmi via. Appena detto così, la bambina disparve e la finestra si richiuse senza far rumore. Oh bella bambina dai capelli turchini, gridava Pinocchio. Aprimi per carità, abbi compassione di un povero ragazzo inseguito dagli assass... Ma non pote finire la parola perché sentì afferrarsi per il collo e le solite due vociacce che gli brontolarono minacciosamente. Ora non ci scappi più! Il burattino vedendosi balenare la morte dinanzi agli occhi fu preso da un tremito così forte che nel tremare gli suonavano le giunture delle sue gambe di legno e i quattro zecchini che teneva nascosti sotto la lingua. Dunque? Gli domandarono gli assassini. Vuoi aprirla la bocca sì o no? Ah non rispondi! Lascia fare che questa volta te la faremo aprir noi! E cavato fuori due coltellacci lunghi lunghi e affilati come rasoi! Zaff! Gli affibbiarono due colpi nel mezzo alle reni. Ma il burattino, per sua fortuna, era fatto d'un legno durissimo, motivo per cui le lame, spezzandosi, andarono in mille schegge e gli assassini rimasero col manico dei coltelli in mano a guardarsi in faccia. Ho capito! Disse allora uno di loro. Bisogna impiccarlo! Impicchiamolo! Impicchiamolo! Ripetè l'altro. Detto fatto, gli legarono le mani dietro le spalle e passatogli un nodo scorsoio intorno alla gola, lo attaccarono penzoloni al ramo di una grossa pianta, detta alla quercia grande. Poi si posero là, seduti sull'erba, aspettando che il burattino facesse l'ultimo sgambetto. Ma il burattino, dopo tre ore, aveva sempre gli occhi aperti, la bocca chiusa e sgambettava più che mai. Annoiati finalmente di aspettare, si voltarono a Pinocchio e gli dissero, sghignazzando, addio a domani! Quando domani torneremo qui, si spera che ci farai la garbatezza di farti trovare bello e morto e con la bocca spalancata! E se ne andarono. Intanto s'era levato un vento impetuoso di tramontana, che soffiando e mughiando con rabbia, sbatacchiava in qua e in là il povero impiccato, facendolo dondolare violentemente come il battaglio di una campana che suona a festa. E quel dondolio gli cagionava acutissimi spasimi e il nodo scorsoio, stringendosi sempre più alla gola, gli toglieva il respiro. A poco a poco gli occhi gli si appannavano e sebbene sentisse avvicinarsi la morte, pure sperava sempre che da un momento all'altro sarebbe capitata qualche anima pietosa a dargli aiuto, ma quando aspetta aspetta vide che non compariva nessuno, proprio nessuno, allora gli tornò in mente il suo povero babbo e balbettò quasi in moribondo, oh babbo mio, se tu fossi qui! E non ebbe fiato per dir altro, chiuse gli occhi, aprì la bocca, stirò le gambe e dato un grande scrollone, rimase lì come intirizzito. Capitolo sedicesimo. La bella bambina dai capelli turchini fa raccogliere il burattino, lo mette a letto e chiama tre medici per sapere se sia vivo o morto. In quel mentre che il povero Pinocchio, impiccato dagli assassini a un ramo della quercia grande, pareva oramai più morto che vivo, la bella bambina dai capelli turchini si affacciò da capo alla finestra e impietositasi alla vista di quell'infelice che, sospeso per il collo, ballava il trescone alle ventate di tramontana, batte per tre volte le mani insieme e fece tre piccoli colpi. A questo segnale si sentì un gran rumore di ali che volavano con foga precipitosa e un grosso falco venne a posarsi sul davanzale della finestra. «Che cosa comandate, mia graziosa fata?» disse il falco abbassando il becco in atto di reverenza, perché bisogna sapere che la bambina dai capelli turchini non era altro in fin dei conti che una buonissima fata che da più di mill'anni abitava nelle vicinanze di quel bosco. «Vedi tu quel burattino attaccato penzoloni a un ramo della quercia grande? Lo vedo!» Orbene, vola subito laggiù, rompi col tuo fortissimo becco il nodo che lo tiene sospeso in aria e posalo delicatamente sdraiato sull'erba a piede della quercia. Il falco volò via e dopo due minuti tornò dicendo «Quel che mi avete comandato è fatto!» «E come l'hai trovato, vivo o morto?» A vederlo pareva morto, ma non deve essere ancora morto per bene, perché appena gli ho sciolto il nodo scorsoio che lo stringeva intorno alla gola, ha lasciato andare un sospiro, balbettando a mezza voce «Ora mi sento meglio!». Allora la fata, battendo le mani insieme, fece due piccoli colpi e apparve un magnifico cam barbone che camminava ritto sulle gambe di dietro, tale e quale come se fosse un uomo. Il cam barbone era vestito da cocchiere in livrea di gala. Aveva in capo un nicchiettino a tre punte gallonato d'oro, una parrucca bianca coi riccioli che gli scendevano giù per il collo, una giubba color di cioccolata coi bottoni di brillanti e con due grandi tasche per tenervi gli ossi che gli regalava a pranzo la padrona, un paio di calzoni corti di velluto cremisi, le calze di seta, gli scarpini scollati e di dietro una specie di fodera da ombrelli, tutta di raso turchino, per mettervi dentro la coda quando il tempo cominciava a piovere. Su da bravo medoro, disse la fata al cam barbone, fai subito attaccare la più bella carrozza della mia scuderia e prendi la via del bosco. Arrivato che sarai sotto la quercia grande, troverai disteso sull'erba un povero burattino mezzo morto. Raccoglilo con garbo, posalo pari pari sui cuscini della carrozza e portamelo qui, hai capito? Il cam barbone, per far intendere che aveva capito, dimenò tre o quattro volte la fodera di raso turchino che aveva dietro e partì come un barbero. Di lì a poco si vide uscire dalla scuderia una bella carrozzina color dell'aria, tutta imbottita di penne di canarino e foderata nell'interno di panna montata e di crema coi savoiardi. La carrozzina era tirata da cento pariglie di topini bianchi e il cam barbone seduto a cassetta schioccava la frusta a destra e a sinistra come un vetturino quando ha paura di aver fatto tardi. Non era ancora passato un quarto d'ora che la carrozzina tornò e la fata che stava aspettando sull'uscio di casa prese in collo il povero burattino e portatolo in una cameretta che aveva le pareti di madre perla mandò subito a chiamare i medici più famosi del vicinato e i medici arrivarono subito uno dopo l'altro. Arrivò cioè un corvo, una civetta e un grillo parlante. Vorrei sapere da lor signori disse la fata rivolgendosi ai tre medici riuniti intorno al letto di Pinocchio vorrei sapere da lor signori se questo disgraziato burattino sia morto vivo. A quest'invito il corvo facendosi avanti per il primo tastò il polso a Pinocchio poi gli tastò il naso poi il dito mignolo dei piedi e quando ebbe tastato ben bene pronunziò solennemente queste parole. A mio credere il burattino è bello e morto ma se per disgrazia non fosse morto allora sarebbe indizio sicuro che è sempre vivo. Mi dispiace disse la civetta di dover contraddire il corvo mio illustre amico e collega per me invece il burattino è sempre vivo ma se per disgrazia non fosse vivo allora sarebbe segno che è morto davvero. E lei non dice nulla domandò la fata al grillo parlante. Io dico che il medico prudente quando non sa quello che dice la miglior cosa che possa fare è quella di stare zitto. Del resto quel burattino lì non m'è fisionomia nuova io lo conosco da un pezzo. Pinocchio che fino allora era stato immobile come un vero pezzo di legno ebbe una specie di fremito convulso che fece scuotere tutto il letto. Quel burattino lì seguitò a dire il grillo parlante è una birba matricolata. Pinocchio aprì gli occhi e li richiuse subito. È un monellaccio uno svogliato un vagabondo. Pinocchio si nascose la faccia sotto i lenzuoli. Quel burattino lì è un figliuolo disubbediente che farà morire di crepacuore il suo povero babbo. A questo punto si sentì nella camera un suono soffocato di pianti e di singhiozzi. Figuratevi come rimasero tutti allorché sollevati un poco i lenzuoli si accorsero che quello che piangeva e singhiozzava era Pinocchio. Quando il morto piange è segno che è in via di guarigione disse solennemente il corvo. Mi duole contraddire il mio illustre amico e collega soggiunse la civetta ma per me quando il morto piange è segno che gli dispiace a morire.